salve a tutti benvenuti nel canale di passione uncinetto oggi ci dedicheremo alla rubrica primi passi per la lavorazione dei fondi borsa questi sono due metodi che vi mostro nel video e in più vi mostro anche un altro piccolo metodo sempre con la lavorazione a catenella prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video in più vi volevo invitare a seguirmi sulle mie pagine facebook instagram e tik tok e lì cercherò con delle storie dei post di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale e in più faremo dei sondaggi per decidere insieme i prossimi progetti se il video vi piace lasciatemi un pollice all'insù e ora andiamo alla presentazione dei materiali per questo progetto utilizzerò un cordino swan un uncinetto numero 3 e un fondo in ecopelle 30 per 10 come misura abbiamo qui il fondo in ecopelle questa è la parte dritta quindi la pelle visibile questo è la parte del rovescio si vede anche dai fori che da la parte del rovescio giriamo dobbiamo sempre iniziare la lavorazione dove appunto abbiamo la parte in pelle prendiamo l'uncinetto quando scegliamo l'uncinetto dobbiamo comunque vedere se entra nel foro e quindi ci viene bene a lavorare eventualmente dobbiamo scegliere per la lavorazione del fondo un uncinetto più piccolo quindi in questo caso io sto utilizzando il 3 ed entra se a voi vi viene difficoltoso potete utilizzare il 2 e mezzo anche se poi per la borsa utilizzate un uncinetto più grande infatti se questa lavorazione la facessimo con la fettuccia dobbiamo utilizzare un uncinetto più piccolo però poi la fettuccia andiamo a lavorare con l'uncinetto richiesto che può essere un 6 un 7 un 6 e mezzo iniziamo comunque noi la lavorazione la lavorazione io solitamente l'inizio da questa parte che la parte corta a metà quindi entriamo con l'uncinetto e prendiamo il cordino e ce lo tiriamo da questa parte all'interno guardate a cappietto qui facciamo realizziamo la prima maglia bassa quindi passiamo il filo nella solina rientriamo nello stesso punto e rifacciamo una maglia bassa e passiamo il filo questi sono i primi due punti solitamente nelle lavorazioni del fondo noi ci dobbiamo ritrovare nell'angolo a lavorare un aumento quindi se noi lavoriamo in tutti i fori due maglie basse per ogni foro nell'angolo dobbiamo lavorare tre maglie basse l'angolo qui guardate essendo ovale è inteso come questo qui l'ultimo di questa riga della riga lunga quindi in questi punti 1 2 3 e 4 dobbiamo lavorare tre maglie basse per ogni foro poi tutto dipende dalla borsa che dovete realizzare e dal filato che state utilizzando quindi solitamente e la lavorazione procede così due maglie basse a foro e tre maglie basse nei negli angoli però ci sono delle dei formati di borsa delle lavorazioni che magari richiedono un aumento è un esempio due maglie una maglia due maglie una maglia e nell'angolo ad esempio le tre maglie poi è in base vi dovete sempre regolare in base al lavoro quindi alla borsa che state creando che sia più larga oppure che salga dritta o che non sia o che sia invece l'opposto che sia molto larga continuiamo questa lavorazione entriamo nel foro successivo prendiamo il filo nel frattempo guardate mi sto lavorando la codina nella parte di sotto quindi prendo il filo lo porto e faccio una maglia bassa rientro prendo nuovamente il filo me lo porto solo su e rifaccio una maglia bassa così abbiate l'attenzione che dovete avere è di non fare di una lavorazione stretta perché dobbiamo adeguarci al fondo e quindi non lo dobbiamo imbarcare deve essere una lavorazione morbida quindi qui facciamo sempre una maglia bassa seguita da un'altra per ogni foro guardate fino ad arrivare a questo punto arrivati qui dove proprio guardate si crea l'angolo qui dobbiamo lavorare tre maglie basse quindi uno rientriamo prendiamo il filo lo riportiamo nella parte sopra due rientriamo prendiamo il filo lo riportiamo guardate tre questi sono i tre punti dell'angolo continuiamo la lavorazione con due punti per ogni per ogni buchetto fino ad arrivare qui dove faremo sempre tre punti continuiamo con due qui tre punti continuiamo con due tre punti e ci rivediamo alla fine terminata la lavorazione guardate il risultato della lavorazione del fondo è questo quindi qui siamo arrivati alla fine entriamo nell'ultimo punto e ci chiudiamo con maglia bassissima e abbiamo terminato la lavorazione del fondo la parte dietro è così e la parte davanti è questa e poi procederemo in base la lavorazione della borsa che vogliamo fare ora dobbiamo fare l'altro tipo di lavorazione sempre del fondo perché ce ne sono due tipi come vi ho detto all'inizio questo è uno e ora prendiamo un altro fondo e facciamo l'altro ora ho preso l'altro fondo per fare l'altro tipo di lavorazione che si chiama punto catenella quindi noi dobbiamo passare tutto il perimetro del nostro fondo appunto catenella e nel secondo giro fare gli aumenti al solito agli angoli che sono sempre questi perché il fondo che sto utilizzando che è quel solo di un altro colore marrone è della stessa misura e della stessa forma fondi ce ne sono tanti ci sono quelli quadrati rettangolari proprio con l'angolo questi qua ovali poi ci sono quelli rotondi e quant'altro ma noi ci interessano questi perché questi noi dobbiamo calcolare gli aumenti agli angoli quindi in quelli quadrati lo calcolerete nel buchetto che c'è proprio nell'angolo in questi rettangolari guardate in questo dove si crea l'angolo questo è il punto interessato quindi iniziamo questa lavorazione prendiamo il cordino e iniziamo da una parte qualsiasi io inizio sempre dallo stesso punto dove ho iniziato appunto l'altra lasciamo un pezzetto di cordino guardate così entriamo in un foro e ci prendiamo guardate a cappietto il cordino quindi lo facciamo passare così ora entriamo in quello successivo prendiamo il filo e lo facciamo passare direttamente nel primo cappietto la stessa cosa facciamo in quello dopo così questa questa lavorazione la dobbiamo fare per tutto il perimetro senza però tirare più di tanto le asoline che significa questa la lasciamo morbida entriamo prendiamo il filo tiriamo un pochino e lo portiamo all'interno perché non ci deve imbarcare la lavorazione cioè il fondo quindi deve essere una lavorazione morbida non vi preoccupate per questo punto perché noi abbiamo il filo qui che abbiamo lasciato quindi è normale che si allarghi un pochino ma non è un problema poi lo sistemeremo alla fine quindi continuiamo facendo questa lavorazione fino ad arrivare alla fine così facciamo passare nella solina tiriamo un pochino prendiamo tiriamo facciamo passare nella solina e tiriamo un pochino terminata la lavorazione appunto catenella guardate la lavorazione è perfetta perché l'ho lavorata morbida mi raccomando perché se la lavorate più stretta vi può imbarcare la base e non va bene come avete visto ho lasciato un buchetto libero questo è il filo di lavorazione questo invece quello che abbiamo lasciato ora entriamo nell'ultimo buchetto leviamo il filo di lavorazione ci prendiamo il filo che ho lasciato e facciamo l'ultima solina la facciamo passare dopodiché sfiliamo il nostro filo e facciamo così entriamo nella parte dalla parte esterna nel nel primissimo punto che abbiamo fatto prendiamo il filo e lo portiamo da questa parte dopo di che entriamo nell'ultimo punto prendendo anche guardate devo dobbiamo entrare dentro la solina prendiamo il filo e ce lo portiamo dalla parte dietro così e abbiamo terminato facendo l'ultimo punto quindi abbiamo costruito l'ultimo punto con la codina iniziale che avevamo lasciato e questa è la lavorazione del punto catenella il fondo dietro si presenta così guardate qui abbiamo la parte finale e qui la parte iniziale prendiamo il filo per continuare la lavorazione e in questo caso abbiamo possiamo fare due metodi di lavorazione ve li faccio vedere tutti e due entriamo il filo è arrivato qua guardate la parte dietro entriamo nel punto successivo al centro della solina ci prendiamo il filo di lavorazione quindi ce l'abbiamo qui della parte di sotto il fondo nella parte dietro si presenta così guardate qui abbiamo inizio e fine e abbiamo comunque la continuazione del filo per quanto riguarda le lavorazioni in fettuccia solitamente si utilizza questo metodo e poi si rientra nel qua c'è il filo nel punto successivo nella parte centrale del punto si riprende il filo di lavorazione e poi si fanno le nostre maglie basse che con la fettuccia bastano una maglia bassa perforo e negli angoli negli angolini lavorare due maglie basse per quanto riguarda il cordino invece io non lo consiglio questo metodo quindi sfiliamo l'uncinetto giriamo il fondo e qui tagliamo il filo e lì facciamo un doppio nodo quindi un nodino per fissarli per bene quindi filo iniziale e filo finale poi nasconderemo per bene questi fili e iniziamo la lavorazione con il cordino prendiamo il cordino lasciamo un pezzettino di godina ci agganciamo al primo punto prendendo metà punto guardate portiamo il filo all'interno facciamo una catenella rientriamo e lavoriamo una maglia bassa nel frattempo il filo che abbiamo lasciato quindi la codina la mettiamo qui di sotto così ce la lavoriamo e la sigilliamo la catenella in questo caso ci ha sostituito la prima maglia bassa entriamo nel secondo punto sempre prendendo la metà e lavoriamo due maglie basse in questo caso possiamo sostituire l'uncinetto con uno più grande a seconda della lavorazione che vogliamo fare quindi a posto del tre possiamo lavorare ad esempio con un tre e mezzo e lavoriamo due maglie basse per ogni maglia sempre prendendo ne metà e nell'angolo lavoriamo tre maglie basse quindi uno due e tre poi continuiamo la lavorazione delle due maglie basse per ogni maglia e negli angoli sempre tre maglie basse e questo è un metodo come vedete qui restano queste piccole striscette del fondo e questo è quello che si vedrà sotto la borsa l'altro metodo invece è uguale l'unica differenza è che viene presa tutta la solina quindi entriamo guardate al di sotto di tutta la solina quindi di tutta la catenella prendiamo sempre cotto e dai il cordino lo facciamo passare al di sotto qui e facciamo una catenella mettiamo la codina in corrispondenza della lavorazione così ce la lavoriamo e lavoriamo un'altra maglia bassa e facciamo la stessa cosa ripetiamo dobbiamo fare due maglie basse per ogni catenella prendendola per intero guardate così è nell'angolo quindi lavoriamo altre due maglie basse qui facendo attenzione mi raccomando a strisciare il fondo perché il fondo in pelle dobbiamo fare attenzione a non rovinarlo con questo tipo di lavorazione però vi posso assicurare che non è complicata due maglie basse qui nell'angolo ne lavoriamo tre quindi prendiamo sempre nella parte sotto questa è la codina ce la lavoriamo un altro pochino dopodiché lasciamo andare poi la sigilliamo nella lavorazione quindi qui ne lavoriamo tre nell'angolo facciamo passare il filo mi raccomando tenete l'uncinetto per fare queste lavorazioni l'impugnatura così perché se no vi viene troppo faticoso per le mani continuiamo con due maglie basse per ogni catenella qui nell'angolo ne lavoriamo tre qui nell'angolo tre qua sempre due tre e ci rivediamo qui alla fine ho lavorato tutte le maglie guardate il lavoro si presenta così siamo arrivati qui all'ultima e ci chiudiamo nella prima maglia con maglia bassissima quindi abbiamo terminato la lavorazione qui è la parte dietro e questa è la parte visibile questo è il fondo e poi qua poi sale la lavorazione e se voi ritenete opportuno lavorare un altro giro di maglie basse e negli angoli fare ulteriori aumenti lo fate se no lavorate io vi consiglio qualsiasi tipo di borse punto realizzate lavorato un altro giro oltre questo di maglie basse in costa quindi per tutto il perimetro e poi iniziate la borsa con il vostro punto quindi anche questo metodo di inserimento del cordina al fondo è stato fatto e qui abbiamo i due metodi spero che questo video vi sia stato utile e vi sia utile per la lavorazione di tantissime borse che siano in cordino in cotone in fettuccia e potete sfruttare questi due metodi di lavorazione del fondo borsa se il video vi è piaciuto lasciatemi un mi piace al video e condividetelo se avete delle domande da fare commentate qui sotto o sulla mia pagina facebook o instagram passione uncinetto io sarò lieta di rispondervi vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video vi ringrazio come sempre di 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 ringrazio